La cosa che mi chiede, perché in giro che mi sento la faccio. Non possiamo fare le domande di un piano, ma non possiamo fare le domande di un piano. Non possiamo fare le domande di un piano, ma in un po' ballerino. Ma qualcuno non ha guidata gliela potrà dare. Tante cose l'abbiamo fatto noi, perché lei l'ha potuto, quando lo sentite. Però uno, magari, nella città, nel senso di caccia. Grazie.